Io li sentivo troppo i derby, sentivo troppo, anche se io ho fatto 13 gol al Torino, sono capocannoniero dei derby. Nei derby fare dei gol valgono 10 volte gli altri gol fatti a altre squadre, no? Io ne ho fatti 13, 13, belli, belli, tutti belli. Quando quella palla passava la linea bianca e entrava nella porta del Torino, ho tirato un rigore contro il Torino, al Philadelphia. Proprio nella Fosse dei Leoni la chiamavamo noi. Io mi ricordo quando ho messo la palla e ho guardato il portiere, ho alzato un po' gli occhi così, io ho visto il pubblico che veniva addosso. Quello che gridavo, quello che mi ha detto è irripetibile. Però ho fatto gol. Mi ha vinto poi 4-2 il Philadelphia. Grazie a tutti.